Nell'ambito del disegno di legge e concretezza c'è una previsione che riguarda nella fattispecie il profilo del dirigente scolastico che prevede la rilevazione della presenza fisica del dirigente scolastico in istituto attraverso la posizione di videocamere e la rilevazione biometrica, quindi con la rilevazione dell'impronta digitale o dell'Ide. Onestamente è una misura di sicurezza o di trasparenza, come è stato sottolineato, che noi dirigenti scolastici non comprendiamo che riteniamo assolutamente offensiva e lesiva anche della nostra dignità professionale. Ma è una questione spinosa perché non ne comprendiamo il senso, perché come dirigenti scolastici da contratto non abbiamo un orario di servizio per cui non riusciamo assolutamente a capire perché dovremmo rilevare l'entrata e l'uscita. Dopodiché si stanno mettendo in atto tutta una serie di rivendicazioni da parte dei sindicati confederali che di quelli di categoria. Ci rifiutiamo chiaramente di accettare questo provvedimento e faremo in modo che venga bloccato al Senato e che non passi. Io credo che la questione affrontata, cioè quella della rilevazione della presenza in servizio dei dirigenti scolastici, sia in essenziale rispetto ai tanti problemi della scuola che rimangono irrisolti. E temo che questo possa essere un modo per distogliere l'attenzione dalle reali esigenze della scuola. I dirigenti scolastici hanno bisogno di risorse economiche e finanziarie, risorse umane, hanno bisogno di un ampliamento degli organici del personale ATA, hanno bisogno di quadri intermedi perché un dirigente scolastico che ha bisogno di svolgere la propria funzione al di fuori dei locali scolastici deve affidare alcune funzioni ai propri collaboratori. Quindi poi alla fine dico benvenga il controllo della presenza dei dirigenti scolastici, che si controllino anche le ore di servizio prestate da altri operatori della scuola, che si scoprirà sono ben superiori a quelle che derivano all'obbligo di servizio, perché la scuola si fonda sulla dedizione volontaria di tanti lavoratori. Quello che penso è che per quanto riguarda l'autonomia del dirigente negli aspetti organizzativi, gestionali e di coordinamento, questo decreto ne limiti fortemente la sua capacità operativa. Di conseguenza sarebbe necessario un po' rivedere in alcuni aspetti della previsione di legge come meglio provvedere all'adempimento della trasparenza della presenza di servizio del dirigente senza però limitarne la sua operatività.